del tempo e di altre illusioni, come ad esempio il fatto che la meteora non sia stata inserita a forza all'interno di queste storie già scritte. Carissimi amici, benvenuti a questo nuovo D-Landog 395, ci avviciniamo sempre di più alla meteora e per quanto ci avviciniamo sempre di più alla meteora, sembra che ci allontaniamo sempre di più perché? Perché sembra che in queste storie qui, che ovviamente sono albi con storie che si voleva e forse sempre più si doveva lasciare godibili anche come storie a sé stanti, quindi come albi singoli il fatto di aver inserito posteriormente, postecipatamente a forza questa meteora continua a insomma marcarne gli effetti malefici piuttosto che benefici come appunto in questo caso. In questo caso che però in particolare di nuovo possiamo facilmente, forse persino più di altri albi disfarci del pensiero della meteora tolte se vogliamo proprio le primissime pagine in cui c'è il solito John Ghost che fa le sue battutine su gli orologi, gli svizzeri, il caos, eccetera, eccetera. Sì, ecco, in questo caso non voglio nemmeno più parlarne più di tanto della meteora salvo il fatto di una cosa che proprio è strana in questo caso a questo albo, definitivamente, perché l'avevo già preannunciata e poi prevista, perché poi nel frattempo avevo letto anche questo albo qui nella recensione dello scorso albo Eterne Stagioni. C'era stato lo sconvolgimento delle stagioni, c'era stato il fatto che le stagioni cambiassero proprio a causa della meteora ogni, alla fine, due ore più o meno. Cavolo, è dura da mantenerlo comunque come setting, fottersene completamente, dimenticarsene completamente di quello che c'è stato nello scorso album. Saremo mica in una continuity, voi direte, no? Appunto, via discorso della meteora. Veniamo a questa storia. Questa storia, voglio parlare prima di tutto di che cosa parla e poi discutere di questo lavoro che sia nella sceneggiatura della storia che nei disegni, tutto di Carlo Ambrosini. Allora, il tutto parte appunto da parte il preambolo inutile all'iniziale da questa visione che Dylan e Gruccio hanno del film Stromboli, un film storico di Aldolf Mayer, che appunto tratta di questo mito che ha a che fare con l'isola di Lipari, con il dio Efesto, che appunto era quello che faceva poi sgorgare il fuoco e zampillare poi i vulcani, ribollire la terra, eccetera. In questo caso l'avrebbe fatto, ancora secondo appunto il film, se il figlio del re Tomonte, che appunto aveva residenza presso l'isola di Lipari, non avesse sacrificato il figlio Keynos di cinque anni, che però non era in grado di parlare, era insomma praticamente muto. Solo con questo sacrificio e potendo dare quindi un figlio, diciamo così, sano, completamente sano e come proprio erede, allora il dio Efesto avrebbe risparmiato la stessa Lipari. Allora, come mito è sicuramente molto intrigante, perché poi la storia narra che il dio che parla attraverso questa sorella dice che riuscirà la madre, ovviamente angosciata da questa rivelazione, a salvare il proprio figlio perché lei si dovrà semplicemente andare a coricare e quando si sveglierà a fianco di suo marito, al posto di suo marito, troverà suo marito quando era un bambino di cinque anni. Potrà prendere quel bambino e consegnarlo a chi ha emesso che verrà a prendere appunto quello che sarebbe stato suo figlio e andrà a sacrificare lui e andrà a sacrificato lui e non il suo vero bambino. Quindi praticamente lei fa questo pur sapendo che in questo modo sacrificherà suo marito. Beh, tutto fa tutto come dice, viene l'alba, eppure si ritrova ancora il suo marito a fianco e sembra che abbia sognato tutto e però il suo bambino appunto è stato nel frattempo portato via e lei dalla disperazione, non capendo perché il dio l'avesse mentito o quant'altro, decide di gettarsi anche lei nella lava, direttamente nelle fiamme. È un film che, come dice qua, il finale, voluto il regista, resta sconosciuto, gli ultimi 12 minuti della pellicola sono irrimediabilmente perduti. Bene, nel frattempo compare questa signora che col proprio figlio è stranamente somigliante a quel figlio del film e poi scopriremo un po' questo bambino che ci tormenterà, come vedremo, per tutto l'albo, sia una figura cruciale perché lei sostiene di possedere quel finale, quegli ultimi minuti, è l'unica forse a possederli e se Dylan vuole potrà andare da lei a consultarli. Nel frattempo Dylan vede il proprio lì vicino che si tiene presso una galleria d'arte, una esposizione di un famoso scultore la cui figlia pare essere questa ragazza di cui lui si era innamorato da giovanissimo a 16 anni e che, tra l'altro, mi sembra fosse appunto già comparsa, lo cita qui, non mi ricordo se in un vecchio albo, quindi facente parte del vero passato di Dylan, e però la cosa, a quanto pare, le dice non si era poi del tutto infinitamente consumata perché lui poi si era innamorato, ovviamente, di un'altra, di lì a poco e quindi si era innamorato bruttamente di questa e non aveva più concluso con lei. Ecco ancora allora, comparire anche qui in questa rievocazione del flashback questo bambino con questo 8 che poi potrà essere 80, ma questo 8 che molto probabilmente parlando di tempo, concetti, infinito, non infinito è il classico 8 che sono ribalti diventa il simbolo di infinito e quindi abbiamo il classico reiterare di queste tematiche che, insomma, se avrete avuto a che fare con il tema del tempo, del concetto di tempo ecco, infatti, ecco qui Dylan Dog numero 74 il lungo addio era dove lei era comparsa. Dicevo, si ripercuoterà su tutta questa parte un po' su tutto l'albo proprio il concetto del tempo proprio perché è là dove Carlo Ambrosini vuole, insomma, andare a parare vuole esporci questo suo concetto di relatività del tempo dove soprattutto pare avere questa importanza soprattutto il presente, il momento attuale e, al contrario, il passato e il futuro sono concetti semplicemente creati dall'uomo una creazione dell'uomo e sono in realtà una realtà che non è, secondo questa concezione non avere proprio realtà sono semplicemente altre realtà che non concernono quello che è il nostro tempo o quello che è il nostro presente che è l'unica vera realtà a cui forse bisognerebbe tenere, insomma, come valida e a cui prestare solo qui la massima attenzione quindi sul classico concetto dell'attimo di adesso quello che conta e non il passato e il presente è un parecchio, ve lo dico parecchio arzigogolato il concetto che esprime Carlo Ambrosini ma ancora di più ve lo assicuro il modo in cui lo concepisce perché ritorna a rifrugare con questa mitologia e ci mette di mezzo appunto il personaggio anche la stessa morte che, insomma, a cui questa stessa morte starà un po' sul cazzo questo bambino proprio perché questo bambino trascende questa concezione del tempo si trova ovunque e scombina i piani di morte perché dice cazzo, un bambino che va ovunque passato, presente, futuro e non può essere definitivamente ucciso come effettivamente dovrebbe essere quando è il suo tempo mi scombina i piani allora inciterebbe Dylan a aiutare a rimettere appunto in sesto in ordine queste cose e qui forse abbiamo un ultimo concetto di nuovo di collegamento alla meteora appunto il concetto che credo alla base mi immagino fino alla fine rimarrà il concetto appunto del caos su cui John Ghost ha gettato tutti i semi di questa lunga serie riguardante questa meteora e quindi vedremo se Dylan accetterà o meno di aiutare morte e se capirà appunto questo concetto vi lascio ovviamente scoprire tutto questo nell'andare a scoprire un po' l'albo nell'andare a scoprire perché Block potrebbe sembrare che è morto com'è che è morta anche la ragazza che Dylan poco prima aveva ritrovato se lo è davvero beh insomma preparatevi è un bel casino e forse magari se volete cercare di capire del tutto a una lettura in più sempre che ne valga la pena adesso vedremo ecco il concetto è questo ne vale la pena ve lo dico schiettamente a mio avviso no cioè non vale la pena per quello che riguarda sicuramente il mio gusto rabirsi nell'interpretare oltremodo questo albo per alcuni aspetti diciamo che si intuisce l'intuizione è facile da subito sul concetto che vuole restituire Carlo Ambrosini riguardante il tempo e la sua relatività e la relatività della sua realtà diciamo chiamiamola così meno secondo me il modo in cui cerca di spiegarlo concettualmente come cerca di buttare giù questa storia e intrecciarla secondo me non gli è riuscito bene proprio papale papale lo dico questo aspetto io almeno non so ho letto diverse altre opere ho visto anche qualche film riguardante questo stesso tema e secondo me pur avvalendosi tra l'altro anche qui di altre opere che hanno a che fare con questi concetti un po' insomma che si tangono in qualche modo non è riuscito davvero a esprimerlo in modo netto chiaro appassionante vabbè poi mettiamoci ok ok siamo con Dylan Dog in mezzo a ben altre magagne quindi questo sicuramente non ha aiutato però quello è comunque un aspetto secondario peccato perché viene anche in parte diciamo così sprecato appunto questo mito di effetto affascinante che invece questo viene rappresentato e narrato molto bene così come sono fatti molto bene i disegni proprio quando siamo nella ricostruzione di questa pellicola a dare questo effetto pellicola ecco che invece purtroppo quando ci si rifionda dalla pellicola fuori dello schermo alla realtà è a mio avviso molto 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 deludente l'opera di disegni di Ambrosini guardate che alternanza di Dylan abbiamo da una vignetta all'altra proprio che sembra che non c'entrano nulla così come il tratto che a volte è veramente sgarbato queste rughe a volte sono tratteggiate sgrafate in maniera molto molto rude e poco precisa si intuisce che è sempre lo stesso personaggio ad esempio lo stesso bambino invece a volte si deve accettare che voglia rappresentare effettivamente lui perché non è sempre così ben rappresentato anche nella rappresentazione del flashback l'opera anche degli sfondi non solo dei volti è veramente io definirla la definisco abbastanza insufficiente a mio avviso devo essere sincero così come quando c'è block che guardate qua secondo me non è veramente tratteggiato mai poi magari ci sono delle tavole che sono anche discrete ma è maggiore la sensazione di avere a che fare con un albo non so se di fretta la sensazione principale la scarsa cura perché poi appunto ti trovi di fronte a certe altre tavole sembrano disegnate completamente da un'altra persona che qui invece non è citata o forse magari inchiostrate merito che ha inchiostrato certe cose bene l'inchiostratore però se è sempre lui visto che non ci sono citazioni di inchiostratori può essere lui e quindi è un po' deludente ve lo consiglio personalmente ovviamente come avrete visto e capito no non è tra un albo al di fuori il fatto che siamo dentro la meteora comprateli tutti perché se seguite la meteora così almeno non avrete poi ho letto la meteora ma non ce li ho tutti non li ho letti tutti sapete che alla fine li avrete letti tutti vedrete come andrà a finire e probabilmente diremo sì bello il concetto magari generale della meteora ma quegli albi nel mezzo con la meteora erano sostenuti così per quanto riguarda appunto il concetto del tempo che voleva esprimere poteva essere sì molto affascinante non è a mio avviso riuscito il modo in cui lo ha implementato in cui lo ha sceneggiato peccato peccato perché Carlo Brosini ci ha donato ben altre opere anche su Dylan Dog bene con questo è decisamente tutto io vi ringrazio fatemi sapere se siete della me stesso avviso se al contrario è probabile che vi sia piaciuto anche molto invece questo albo nello specifico o quante volte l'avete riletto se una o due volte l'avete letto per capirlo o volerlo cercare di approfondire capire ulteriormente e per il resto direi che è tutto ci si vede al prossimo video ciao 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 ciao